Era entrato nel comune per cui lavora, o meglio lavorava, per chiedere spiegazioni sull'obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro. Raffaele Conti, dipendente dell'amministrazione pubblica dal 2010, si era recato nel municipio di Fossombrone il 2 febbraio scorso, insieme all'avvocato Iveta Marinangeli. Avevano parlato con il responsabile di settore ed era intervenuta anche la polizia locale, che aveva chiesto al 42enne di esibire il certificato verde. Chiunque si incarica di visionare un Green Pass è illegale, aveva dichiarato Raffaele. La richiesta del trattamento dei dati sanitari, aveva poi spiegato il suo legale, deve essere autorizzata dal Ministero della Salute. Raffaele, dopo l'accesso in municipio insieme al suo legale, che cosa è successo? Praticamente mi hanno diffidato dal poter rientrare negli ambienti di lavoro. E anche in seguito a questo, quelle due giornate che ho cercato di prendermi quello che è di mio diritto, perché è sancito dalla Costituzione al primo articolo e all'articolo 4, mi hanno praticamente fatto arrivare due verbali da 600 Euro l'uno, comunque emessi dal Comune, cosa che a quello che dice l'avvocato non avrebbero neanche tanto potere di farlo. Lei è piuttosto critico rispetto alla gestione dell'emergenza sanitaria, che cosa contesta? In Italia, in Costituzione, nelle varie leggi, non è mai previsto un'emergenza sanitaria, se non altro di questo tipo pandemico, che comunque è stata legiferata a partire dalla testa, per cui dal governo, di PCM, per cui andando veramente con uno strumento senza dibattito, mi viene da dire. E nello stesso tempo questo genere di emergenza, se mai ci fosse il caso, cosa che non c'è, andrebbe gestita a partire dai comuni, dal piccolo territorio, con dei limiti temporali, dei limiti anche territoriali, dopodiché alle province, alle regioni e su via fino allo Stato, quando i livelli di questa emergenza sono elevati, cioè con molti morti visibili, anche nella realtà non sono raccontati. Pensa che ci sia un'eccessiva cautela rispetto alla fase attuale dell'emergenza? Assolutamente sì, nel senso che questo è già visibile a tutti quanti, perché per strada incontriamo molte persone all'aria aperta, sole, con la mascherina FFP2 ben tirata su, quando è già qualche giorno che questa regola non c'è più, per cui non è stata recepita dalle persone. Questo si vede anche, per esempio, in questa notizia molto importante, dove una dirigente scolastica lascia fuori una classe perché non ha la mascherina FFP2. In realtà qui sembra che ci sia una voglia personale, individuale, di negare al prossimo, quello che abbiamo di fronte, i suoi diritti fondamentali. Ecco, come sta trascorrendo le sue giornate, visto che è ancora a casa senza lavoro e senza stipendio? Sicuramente sto leggendo molta normativa e vi sto arrabbattando in qualche lavoretto per guadagnare qualche soldo. Nello stesso tempo cerco di coinvolgere molto le persone intorno a me, sto facendo un corso di potenziamento spirituale per poter dare alle persone questa sveglia perché vedano la realtà. Perché la normativa oggi è tutta illegittima, non sta dentro le regole assolutamente, però è stata recepita dai cittadini. Per quale motivo questo? Non conosciamo le regole. Ad esempio la Costituzione italiana e i suoi articoli che sono importanti, per cui sono molto di più, secondo me, le persone che vivono nel nostro territorio che fanno l'ambiente in cui viviamo e non sono tanto le regole, che tra l'altro stanno dimostrando di non rispettare più le persone. La regola deve aiutare, se la regola non aiuta più, non è una buona regola.